Siamo riusciti subito ad andare in vantaggio dopo sette minuti. Sicuramente la partita era fin da subito aperta. Sapevamo che il San Donato era una squadra forte, ma sicuramente lo siamo anche noi. Quindi siamo venuti qui per vincere la partita, però non ci siamo riusciti. Ma con questo non vuol dire che non dobbiamo puntare ancora all'obiettivo che ci siamo prefissati, quello di riuscire a conquistare il terzo posto. Mancano ancora sette partite, otto partite, non so quante partite mancano. Quindi ce la metteremo tutte e faremo di tutto per vincere il playoff.